Oggi è lunedì, sto portando Nick, il mio cane, dal veterinario a fargli controllare l'orecchio perché gli è venuto un po' di ottite e dunque lo sto portando dal veterinario, sentiamo un po' cosa mi dice e via. Vedete qua c'è l'orecchio un pochino infiammato e adesso sentiamo cosa dirà il veterinario. Siamo appena entrati dal veterinario, adesso la veterinaria lo visita all'orecchio e vediamo un po' cosa c'è. un po' cattino, guarda, guarda sul tavolozzo, ti faccio passare dalla parte di là, come un si sono le stesse pastiglie, se gli viene proprio la sciolta liquida gli do una di quelle. Allora questo qui tanto lo fai per le orecchie, fai mezzo compresso una volta al giorno per cinque giorni. Sto andando in farmacia a comprare le medicine per il cane e via. Sono uscito adesso dalla farmacia, abbiamo preso le medicine al cane e adesso ce ne torniamo al camper. Voi senti vemmin ancora! C'è un po' Cattaro queste hai poco e... beh... Sì... Beh... Un po' Cattaro! È un po' Cattaro! È un po' Cattaro! è un po' Cattaro! Andiamo! Cattaro!